28esima edizione di Echi Lontani, quest'anno che cosa si deve aspettare il pubblico? Il pubblico si deve aspettare un kaleidoscopio scoppiettante di musiche, di concerti, di artisti poliedrici. Inizieremo il 20 marzo in occasione della festa internazionale dell'Europea della Musica Antica con una presenza internazionale, Nicholas Parle, un cembalista australiano, che eseguirà musiche di Johann Sebastian Bach ed alcune trascrizioni di autori veneziani. La serie proseguirà con 16 concerti quest'anno, quindi ne abbiamo uno in più del consueto, speriamo di poterli fare tutti. Termineremo addirittura il 10 luglio, quindi arriveremo proprio in piena estate. e appunto 16 concerti, presenze internazionali, alcuni gruppi storici italiani come l'ensemble Aurora di Enrico Gatti che è uno dei pionieri più importanti della musica antica in Italia. E poi avremo presenze anche sarde nel festival perché noi siamo sempre legati al territorio, quindi il ritorno di Paola Erdas con il suo ensemble e da sola per il recupero di alcuni concerti che non erano potuti essere effettuati in passato. E poi presenze nuove, il penultimo concerto il 3 luglio sarà con Medas, un giovane violinista di origini cagliaritane che ritornerà nella sua città per presentarsi e speriamo che questo sia l'inizio di una grande carriera.